Vorrei ritornare più su degli attributi direttamente legati alla figura del pubblico, alle figure dei pubblici e appunto come diceva Maurizio all'inizio sì non tanto fare pubblici come il titolo ma appunto cosa proporre come modello alternativo. Quando Paolo Caffoni mi ha chiesto il titolo ho pensato appunto a counter publics come contro pubblici perché credo alla fine che questa figura del pubblico sia qualcosa e lo diceva prima Tiziana difficilmente ci riusciremo in qualche modo a liberare velocemente. Quindi che voglio dire? Voglio dire che secondo me ieri qualcuno lo richiedeva sarebbe interessante avere anche una genealogia non ridurre immediatamente alla questione biopolitica che tutto tiene in sé una configurazione che invece è una configurazione specifica che è diventata totalizzante ma nasce con dei caratteri e in dei momenti particolari. Sicuramente appunto siamo, cioè anche l'occasione di Macao è quella del Salone del Mobile, dell'enorme quantità di pubblici che il Salone del Mobile può produrre e la cosa che mi sembra interessante è proprio ripartire di nuovo da un fenomeno circoscritto locale, appunto i pubblici Milano eccetera per poter un po' entrare dentro questa possibile genealogia per poterne fornire diciamo una controformazione. Ieri appunto Maurizio parlava anche di una controinvestigazione sarebbe interessante però noi ne abbiamo ancora gli strumenti perché credo che questa fenomenologia ancora ci sfugge un po'. Mi rifaccio a un testo che avevo fatto forse un anno fa per alfabeta e in questo caso non mi ricordo se qual era l'occasione ma insomma una biennale sicuramente venendo io direttamente dal sistema dell'arte e dicevo a fronte di una instabilità sempre maggiore della forza lavoro occasionale impiegata in modo temporaneo nella realizzazione di mostre biennali c'è la stabilità ormai raggiunta dalla maggioranza aleatoria dei suoi consumatori, i pubblici dell'arte. Dai circa 500.000 visitatori in 66 giorni della biennale di Quangiu del 2010 al record dei 900.000 raggiunti in 100 giorni dell'ultima documenta, questo regime asimmetrico tipico della filiera produttiva del capitalismo post-fordista è quello noto come economia dell'evento. Ma siamo così sicuri che il pubblico oggi rimanga un fatto sociale episodico concluso da un inizio e una fine come nelle società industriali precedenti? Siamo così sicuri che all'interno dell'economia dell'evento il pubblico sia ancora qualcosa di astratto, inclassificabile, imprevedibile e del tutto fuorviante ridurre il suo ruolo a quello dei suoi rituali, alla figura dell'entertainment nel momento in cui gli eventi culturali, e qui c'è tutta la scuola di Bologna, di Sergio Bologna, sono luoghi di lavoro per un certo tipo di precariato direttamente coinvolto e allo stesso tempo per il libero professionista che va a ingrossare le fila del pubblico. Vista quanta parte occupa ormai lo scambio relazionale o la ricerca di occasioni di incontro, nell'imperativo sociale di diventare ognuno imprenditore di sé, non meraviglia considerare il tempo passato tra un vernissage e l'altro come tempo di lavoro e gli spazi dove i rituali della temporaneità vengono celebrati come veri e propri luoghi di lavoro in un'accezione post-fordista del termine. Quello che meraviglia invece è come non si riesca a vedere questa relazione lavorativa nei termini di una forma di sfruttamento e di un meccanismo di dominio della soggettività contemporanea. E appunto quello che meraviglia è come non riusciamo, diciamo, come questa forma di espropriazione poi riesca così fortemente a mimetizzarsi da diventare irriconoscibile. Quello che mi interessa in tutta questa versione dei fatti è veramente che qui si gioca un'alternativa costitutiva che non è un'alternativa ma assolutamente appunto una disimmetria molto forte tra autopromozione e autoasservimento, autovalorizzazione che è nello stesso tempo autoasservimento. Questo appunto è un glanglio piuttosto, cioè non è l'operaio che si sente in qualche modo sfruttato, che fatica, no? C'è proprio questa doppia valenza dell'autovalorizzazione e dell'autoasservimento. E qui ci sarebbero tantissimi casi anche, soprattutto nel sistema dell'arte che ho cercato di analizzare, fino a forme estreme appunto in cui la proprietà privata di una persona, mi ricordo appunto una mostra tre anni fa nel distretto appunto di François Pinot, Palazzo Grassi, era stata addirittura intitolata Il mondo vi appartiene. nel mondo vi appartiene alla propria collezione privata di uno dei maggiori finanziatori, degli esponenti del processo di finanziarizzazione contemporanea che mostrava al pubblico, ai pubblici la propria collezione. Quindi addirittura qui l'adesione che Pinot richiedeva era un'adesione appunto di subordinazione totale in qualche modo, no? Di questa dimensione. Però appunto proprio per questo io credo sia interessante capire come, diciamo così, da un fenomeno di specializzazione poi questo fenomeno diventi veramente generale. Lì c'è, secondo me, appunto Walter Benjamin sicuramente è stato quello più attento a questo fenomeno, ma comunque tra il 1867 e il 1895. Credo che veramente questa dimensione del pubblico si realizzi in una duplice dimensione e da un lato appunto tra l'esposizione internazionale del 67 fino alla costruzione del cinema con i pubblici del cinema del 1895 e se non addirittura la prima esposizione appunto della metà del XIX secolo. Comunque c'è tutta questa cultura. Poi c'è un'esposizione nel 77 dove viene messo in mostra appunto uno dei primi zoo umani e questo raggiunge un record incredibile appunto dentro questo processo di costruzione dei pubblici. Però detto questo appunto la cosa interessante di Benjamin è quando appunto afferma dell'Ausstellungswert come forma appunto come valore di esposizione, come categoria fondamentale per poter cercare di catturare questi eventi. Allora ci potremmo chiedere veramente qual è l'unità di misura del valore di esposizione che non è più il valore di produzione e non è più appunto il valore di tutta una serie di elementi ai quali eravamo assolutamente abituati. E proprio Benjamin raccontava questa storia che nella prima esposizione, quella di Paxton, uno spazio era stato dedicato alla fotografia, alla fotografia per la prima volta e vedeva questo tempo d'esposizione collegato strettamente al tempo d'esposizione di fronte alla camera fotografica. Quindi credo che per esempio un altro degli elementi fondamentali che entri dentro questa costruzione, questa nuova fenomenologia, e ieri lo vedevamo attraverso le immagini appunto prese dai social media, sia anche questa appunto della produzione di immagine e del valore nuovo che viene attribuito a queste immagini. Nello stesso tempo è altrettanto interessante guardare come invece si è proceduto rispetto alla demolizione dei pubblici. Per esempio è sintomatico che quando Guy Debord comincia la sua operazione si rivolge a un pubblico specializzato che è quello del cinema, interviene dentro con urla in favore de Saad contro il pubblico del cinema, che è ancora un pubblico specializzato. Quando scrive la società dello spettacolo e l'avvento della televisione è ancora un'altra cosa e quando arriviamo ai giorni nostri credo dobbiamo fare i conti ancora con un'altra cosa che non credo neppure sia più connessa all'evento e quindi come dire ha uno spazio tempo compresso nei quali pubblici si ritrovano e neppure alla famosa programmazione del tempo che proprio appunto queste manifestazioni temporanee inaugurano dalla seconda metà del XIX secolo in poi. Perché dico questo? Perché mi sembra sempre più interessante vedere come ci sia tutto un processo di formazione ai pubblici. Ieri veniva citato appunto l'impegno della comunità europea nella costruzione di pubblici. Le nuove biennali consegnano ai pubblici di uno schedario che deve essere riempito, il famoso warbook che serve per alimentare l'illusione dei pubblici, ma la cosa più importante essendo direttore di una scuola che dopo la riforma di Bologna addirittura dentro il processo di scolarizzazione e di formazione diciamo dello studente, lo studente si trasforma automaticamente in pubblico e cioè viene fornito un questionario in cui lo studente deve porre dei giudizi sul docente, dare e esprimere una valutazione numerica la quale valutazione numerica ha tutta una serie di conseguenze chiaramente di nuovo dentro il sistema del lavoro e dentro il sistema della produzione. Ecco quindi appunto questo secondo me questo passaggio dalle forme specializzate dei pubblici a una figura che secondo me non ne possiamo fare a meno o non la possiamo marginalizzare perché appunto non c'è questa esternità del pubblico da indagare. Siamo costitutivamente pubblici e dicevo ieri perché proprio come dire vi lavoriamo nel tempo siamo del tempo e siamo nel tempo. Ecco come trovare naturalmente questa dimensione antagonista di costruzione contro pubblici ci stiamo tentando da più parti e sicuramente appunto non è un caso che tutti i movimenti contemporanei in qualche modo abbiano appellativi che hanno a che fare con questa dimensione del tempo che siano precari che siano occupanti che siano altre figure lavorano di nuovo sul tempo in una dimensione che è già contro pubblica. Naturalmente se processi di sottrazione, processi appunto di opposizione o non lo so potranno essere efficaci come al momento non riescono ad essere nel senso che l'impossibilità in questo momento di passare da questa micro strike a una forma appunto che invece è di macro politica, assolutamente credo lo dobbiamo vedere il rapporto anche a una genealogia possibile di questa nuova configurazione che comunque ci rimane assolutamente assolutamente ignota. Devo dire non so, ecco anche qua forse ritornerei a Benjamin e come è possibile fare una genealogia dei pubblici, forse è possibile anche fare una genealogia dei contropubblici, cioè guardare retrospettivamente, ieri Maurizio così per scherzo accennava al fatto come certe avanguardie si ponevano in rapporto a dei pubblici specializzati allora, cioè come diventare antagonismo di un pubblico specializzato ma allora era quello del cinema, era quello appunto della lettura, era quello di tutta una serie di altre cose e qui si tratta appunto di cambiare scala e direzione. Non so, io sono continuo, l'ho detto l'ultima volta, ci siamo trovati qua, continuo a essere attaccato a un fenomeno che appunto fu particolare, locale, eccetera, si chiamava Parco Lambra, abbiamo detto che era la rivolta dei giovani, questi giovani erano pubblici stranamente, erano sostanzialmente pubblici che si opponevano diciamo al sistema classico del concerto, che si opponevano al sistema classico della condizione del tradiunionismo, del sindacalismo, dell'appartenenza al politico, eccetera, eccetera. Sicuramente è un grande esempio, non mi stanco di ripartire da quello pur appunto in fenomenologie che non possono essere più tali oggi. Grazie.